50.000 tonnellate di carne di manzo devono essere ritirate dal mercato, ma gran parte sarebbe già finita in tavola. L'ordine è stato dato dalle autorità olandesi che sospettano sia stata mescolata carne di cavallo. Un'altra parte potrebbe essere ancora ritrovata e ritirata perché finita in prodotti surgelati. Nel mirino c'è di nuovo la Ville Zelten di Oss, che come è stato accertato il mese scorso, vendeva carne di manzo mescolata a quella equina, ed è sospettata per frode e riciclaggio di denaro. Questa carne è finita in altre parti d'Europa. È finita in altre zone d'Europa e in gran parte è stata consumata, ma quella che possiamo ancora trovare sarà ritirata dal mercato. 370 le società di altri paesi europei che avrebbero comprato la carne. Attraverso il sistema di allerta rapido i Paesi Bassi hanno trasmesso il messaggio all'estero. A gennaio test condotti in Irlanda avevano rivelato la presenza di carne equina in prodotti preconfezionati in diversi paesi. A gennaio test condotti in Irlanda avevano i Paesi Bassi hanno trasmesso il messaggio all'estero. A gennaio test condotti in Irlanda avevano i Paesi Bassi hanno trasmesso il messaggio all'estero. A gennaio test condotti in Irlanda avevano i Paesi Bassi hanno trasmesso il messaggio all'estero. A gennaio test condotti in Irlanda avevano i Paesi Bassi hanno trasmesso il messaggio all'estero. Grazie a tutti.